per la quale è stata necessaria una previsione normativa ad hoc e quindi indiscutibilmente non ordinaria, anzi aggiuntiva. Per questo, signor Ministro, siamo a chiederle un intervento per evitare che si determini l'ennesimo vulnus a danno dei cittadini, che non solo non possono eleggere il sindaco della città metropolitana, ma addirittura si troverebbero con la guida di un processo costituente affidato ad un vice sindaco, magari appena nominato, non eletto, privo anche di quella necessaria legittimazione democratica. Grazie. Il signor Ministro d'Interno, Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere per tre minuti. Signor Presidente, onorevoli deputati, gli interroganti in merito alla sentenza di condanna non definitiva per abuso d'ufficio pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, chiedono di sapere come il Ministro dell'Interno intende intervenire per garantire la sospensione del predetto amministratore e, se non ravvisi, in tal caso, gli estremi per differire le elezioni del Consiglio metropolitano di Napoli, fissate per il 12 ottobre prossimo. Le statuizioni del Decreto legislativo 235 del 2012, relative tra l'altro alla sospensione e decadenza anche degli amministratori locali, appaiono chiare e del resto hanno trovato recente applicazione in due casi del tutto analoghi. Coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per una serie tassativa di reati, tra i quali espressamente quello di abuso d'ufficio, sono sospesi di diritto dalle cariche elettive e la sospensione cessa o peiuris di produrre effetti decorsi 18 mesi dalla sua applicazione, salvi i casi in cui un ulteriore periodo di 12 mesi, nell'ipotesi di prosecuzione del giudizio per il rigetto dell'appello. Come ha chiarito la Corte Costituzionale con la sentenza 132 del 2001, pronunciandosi in merito alla legittimità costituzionale del corrispondente istituto trasfuso nel citato Decreto legislativo 235, la misura si applica anche nell'ipotesi, che ricorre esattamente nel caso di specie, di eventuale sospensione condizionale della pena. Le disposizioni normative prevedono che la Cancelleria del Tribunale provveda a dare comunicazione della sentenza al Prefetto, il quale, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, adotta il provvedimento di sospensione che ha dunque natura ricognitiva. Nel caso inesame, il Prefetto di Napoli ha ricevuto comunicazione della sentenza proprio nella mattinata di oggi e dunque procederà oggi stesso agli adempimenti di legge di sua specifica competenza relativamente alla sospensione del Sindaco De Magistris. Per quanto riguarda la posizione del Vice Sindaco di Napoli, cioè Tommaso Sodano, preciso che la sentenza emessa a suo carico non comporta, ai sensi dello stesso Decreto 235 del 2012, l'applicazione di provvedimenti sanzionatori o cautelari che inibiscano anche temporaneamente le funzioni. Inoltre, ai sensi della legge 56 del 2014 alla città metropolitana si applicano in quanto compatibili le disposizioni ordinamentali in materia di comuni. Ciò porta a ritenere, concludo, che l'Istituto della Supplenza, di cui all'articolo 53 del testo unico degli enti locali, trovi applicazione anche nei riguardi della distinta carica di Sindaco metropolitano. E alla luce di tali precisazioni è possibile concludere che non sussistano i presupposti tecnici per un rinvio delle elezioni del Consiglio metropolitano di Napoli, indette per il prossimo 12 ottobre.